egidio benvenuto ben trovato ben collegato senti noi ci conosciamo per prima cosa rompiamo il ghiaccio chi sei in favore raccontaci chi sei in favore di chi ci sta seguendo e qual è la tua missione all'interno di tv sinex si buongiorno a te buongiorno a tutti ti ringrazio un piacere risentirti mi racconto rapidissimamente mi chiamo egidio co ho un'esperienza ormai pluridecennale nell'ambito dei viti dell'informazione e più in generale del networking arrivo da un'esperienza molto lunga presso un grossissimo vendor e oggi all'interno di tv sinex sono un pochino il consulente pre sales tecnico sulle soluzioni vmware per tv sinex vmware è una società estremamente estremamente importante e la decisione è stata quella proprio di investire con una risorsa tecnica che potesse consulenziale che potesse fare prevendita e aiutare i partner al di là del normale lavoro di distributore che è proprio di questa società senti ti prendo ti prendo al volo grazie gido intanto ti prendo al volo prendo al volo quello che appena detto perché tra l'altro tra le tante cose oggi si parla così tanto di vmware cosa sta succedendo vmware è una società che da moltissimi anni e sulla cresta dell'onda con un investimento e con delle soluzioni che di fatto hanno rivoluzionato il data center rendendoli economicamente molto più efficaci efficienti e inventando di fatto comunque uno dei primi vendor che ha inventato di fatto la cosiddetta virtualizzazione cioè un meccanismo software molto complesso ma che ha come capacità quella di rendere estremamente più e fiche efficienti un data center utilizzando al meglio le risorse hardware che come sai sono privilegiate soprattutto in un periodo come come quello che che stiamo affrontando estremamente importanti dal punto di vista dell'utilizzo efficiente e a basso costo e quando dico costo non intendo solo quello economico anche in termini costruzioni c'è efficienza energetica per non è ovviamente l'unica vmware che fa questo tipo di attività ma sicuramente i prodotti che lei posiziona sul mercato sono di assoluto riferimento ed è estremamente positivo il fatto che gli investimenti in questa ordine da parte di vmware stiamo vedendo continuano su queste linee prodotti che sono a mio parere veramente fondamentali lo diventeranno sempre di più ripeto con la necessità di diventare sempre più green che è un obiettivo ormai dal punto di vista dell'utilizzo dell'e-team certo senti a proposito di piattaforme prodotti tra i tanti nell'universo di vmware si parla moltissimo in questa fase di v-sphere no ci racconti che cos'è e soprattutto perché è un'opportunità straordinaria per chi di mestiere fa il sistema integrator dunque v-sphere è il prodotto diciamo che la catena v-sphere v-center sono il prodotto di riferimento il core come direbbero del business e dell'offerta di vmware non è l'unico ma sicuramente in questo momento è estremamente importante e in una parola sostanzialmente è quell'elemento che permette la virtualizzazione e controlla la virtualizzazione del data center ovviamente semplifichiamo molto per problemi di tempo ma quello che lui fa sostanzialmente è rendere estremamente granulare l'utilizzo delle risorse in modo che le cosiddette virtual machine cioè quei pezzi di programmi su cui possono poi lavorare l'applicazione del cliente utilizzano istante per istante in modo dinamico le giuste risorse in termini di computazione networking in qualche modo e soprattutto storage questo cosa fa fa sì che chi chiunque al di là della grandezza del proprio server possa utilizzare esattamente quello che gli serve e come dicevamo prima sfruttare al meglio le risorse cosa succede con v-sphere che da già da qualche settimana ormai vmware ha annunciato una nuova versione la versione 8 che diciamo fa moltissime cose ma sostanzialmente crea una nuova rivoluzione e incrementa ancora di più l'utilizzo intelligente delle risorse in veramente 30 secondi una quota importante soprattutto in data center medio grandi delle risorse di computazione che sono quelle privilegiate come dicevamo deve essere necessariamente utilizzata per la gestione stessa del sistema perché ovviamente virtualizzare creare i software che fanno questa operazione ha un costo in termini di risorse e in alcuni elementi ci sono degli studi di gartner ma non solo ci dicono che in certe circostanze in certe istanze questa percentuale comincia a diventare importante si parla 25 30 per cento del totale di disponibilità questo vuol dire che alcune virtual machine alcuni processori sono interna interamente dedicati alla gestione di risorse ovviamente parli ambienti molto importanti molto grandi cosa farlo di sfirotto in poche parole attraverso l'utilizzo di di hardware dedicati che comunque hanno un costo di gestione inferiore rispetto al cpu nobili cosiddette fa l'off load o comunque deroga a queste cpu tutto l'utilizzo della gestione appunto tutta la gestione scusami della parte di di gestione appunto scusa il bisticcio ma il senso è un po questo questo libera risorse che sono nobili cpu di risorse per poter utilizzare le applicazioni del cliente questo elemento importante aggiungo e concludo che sta firmando quindi supporto vedrà le schede di quasi tutti i grandi vendor produttori di hardware adesso non li cito ma insomma riconosciamo tutti giusto per capirci parliamo dei classici lenovo hp parliamo di invidia eccetera quindi grandissimi produttori di hardware che creano queste schede e un po se ricordi o se ne senti a parlare un po come si faceva quando si dovevano utilizzare schede di accelerazione grafica no qui invece che accelerare la parte grafica acceleriamo la parte dati